Bravo! Non era un gruppo militare, era una banda, comandata da un bandito. Dove poteva andare? Genova era il solo posto che conoscevo. Non lo so, eh? Non lo so. qua, ma tu mi hai parlato. Tu potevi stare zitto, ma tu mi hai parlato. Adesso la nuova Italia è passata dalle mani di Mussolini alle mani. Se non c'è una fantasia, se non guarda l'interno di quello che hai avuto prima di te, se non vedo nulla. Se non vedo nulla.